Ecco perché in questo caso questo affidamento è ancora maggiore. Per me, personalmente, lo dico, molti di voi mi conoscono bene, non prendetelo certo come in alcun modo perdita di controllo del mio ego né di arroganza, lo dico come stimolo per me e per tutti noi. Gianni Rossi faccio il nome, nessuno se ne abbia male. Quando sono andato a una trasmissione televisiva ho detto una cosa che ho fatto finta di farmi scivolare addosso ma faccio un po' di fatica a non averla piantata qui dentro. È un caso, è un caso. Ma l'ultimo sindaco che ha avuto l'opportunità, considerando le leggi cambiate, considerando i mutamenti di maggioranza e considerando tante altre cose, che ha avuto l'opportunità di fare dieci anni in questa città, è il sindaco. È stato l'Hengrin Nandini, è stato il punto di riferimento per tutti coloro che decidono di occuparsi della cosa pubblica. È stato il sindaco che ha cambiato la città, è stato il sindaco che comunque ha lasciato un impresso, con la sua storia, con la sua forza, ha lasciato impresso il suo nome nella storia cittadina. Ora, lungi da me ci mancherebbe altro, si sta parlando di giganti. Ma è possibile o no che quel segnale sia uno stimolo per tutti noi, per far sì che le tante cose sono qui dentro, dentro a questo mandato, dentro a questo programma elettorale, dentro alle cose che sono iniziate, che sono in corso e dentro alle cose che dovremmo fare sia uno stimolo straordinario. Ricordiamoci, abbiamo l'opportunità o l'opportunità, fatemela personalizzare in questo momento, di avere la possibilità di provare davvero a fare delle cose che in questa città servono, che lasciano un'impronta, che diano alla nostra comunità tutta un futuro migliore.